Nove imprenditori denunciati e tre aziende diffidate alla modifica di etichettature di prodotti aromatizzati al tartufo ritenute ingannevoli sono il bilancio di un'indagine condotta dai militari del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e folestale del gruppo Carabinieri di Chieti durata due mesi e che ha coinvolto oltre 25 operatori del settore. I militari hanno trovato in vendita presso la grande distribuzione ed online numerosi condimenti aromatizzati al tartufo nel cui processo produttivo il tartufo era utilizzato in parti inferiori al decimillesimo o addirittura non presente. Alcuni prodotti riportavano tra gli ingredienti un non meglio definito infuso di tartufo ottenuto mediante l'immersione di risibili quantitativi di tartufo in oli extravergine di oliva o di semi cui viene appositamente aggiunto l'aroma di sintesi per ottenere il gusto del fungo ipogeo. Al contrario in etichetta o nei siti internet delle aziende veniva dichiarata la presenza di tartufo che veniva fatta risaltare con immagini fino a specificarne la provenienza geografica. Agli indagati è stata contestata la frode nell'esercizio del commercio per cui è prevista la reclusione fino a due anni per aver consegnato agli acquirenti un prodotto per origine provenienza o qualità del bene diverso da quelle dichiarate. L'utilizzo degli aromi sintetici è normato a livello comunitario e non ci sono rischi per la salute si legge in una nota. È fondamentale però che il consumatore sia messo nella condizione di operare una scelta consapevole. I regolamenti dell'Unione Europea prevedono espressamente che l'utilizzo degli aromi non debba trarre in inganno.